Vorrei dirvi qualche cosa di quello che accadrà a Milano domenica 7, ma alla mattina, nella chiesa di San Marco, questa chiesa che è diventato un luogo famoso della musica da quando Giuseppe Verdi vi diresse lui stesso in persona la prima volta il suo Requiem. Una delle caratteristiche di Mito è quella di presentare un paio di messe celebrate, celebrate proprio regolarmente, con il prete che sta all'altare e poi l'orchestra e il coro che eseguono, questa volta si tratta di una messa di Mozart, l'abitudine è quella di eseguire una messa moderna e Mozart figura già tra gli autori moderni in questo senso, in San Marco, davanti a un pubblico attentissimo, incredibilmente attento ed appassionato di circa 2000 persone e poi un'altra messa invece di tipo antico, quando dico di tipo antico mi riferisco a 1400, 1500, quindi di solito con soltanto cantori e niente orchestra, in una basilica antica meravigliosa come Sant'Ambrogio. Quindi domenica mattina andate a San Marco a sentire una messa di Mozart.